Buongiorno e buon fine settimana da Sicilia 24. Ben ritrovati per la nostra consueta rassegna stampa del mattino. Andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola questo sabato 25 marzo. Andiamo come sempre a scoprire le anticipazioni in prima pagina attraverso i titoli più importanti, i titoli in primissimo piano. Cominciamo subito, partiamo dai quotidiani di casa nostra, cominciamo dal quotidiano la Sicilia, tanti gli argomenti risalto. Partiamo da questo, uno sporco ricatto. Il sindaco di Mister Bianco, i signori delle discariche ci mettono sotto scacco, scongiurato in extremis lo stop dei rifiuti a Lentini. E poi il PNRR in ritardo, vedete, allarme lanciato dal Colle. Mattarella richiama il governo e non nasconde i timori per la tempistica, mentre la Premier dice non vedo rischi sui fondi. E poi fiume di migranti a Lampedusa, Meloni-Macron prove di ricucitura dopo lo strappo dei mesi scorsi. Il Cavaliere melonizza Forza Italia, parliamo ovviamente di Berlusconi, la linea Schifani, effetti in Sicilia, centrodestra, fra voto e nuovi equilibri. E poi strade, stop all'Inferno Cantieri, Anas investe 15 miliardi in Sicilia. Proseguiamo con Grassonelli, permesso di 12 ore dopo 31 anni di carcere alla 41 bis, ok della tribunale all'ex boss Stiddaro. Torna invece l'ola legale, giornate più lunghe e bollette light. Dunque ricordiamoci di cambiare l'orario appunto questa notte. In taglio alto si parla anche di gossip con Diletta Leotta, che è in dolce attesa, Diletta Leotta nota giornalista siciliana, l'annuncio social in un video con Loris Kerius, pazzi di gioia entrambi, ovviamente auguri da parte nostra. Diletta Leotta, Catania, Gorna Lunga ostruito, lavori ancora fermi, il Gorna Lunga è chiaramente un fiume, Catania, spaccio al Tondicello, 24 le condanne in appello, Randazzo, voto di scambio archiviato sgroi, Roccella minacce a ex sindaco il divieto di dimora. Lasciamo il quotidiano la Sicilia, andiamo a vedere la prima pagina del giornale di Sicilia, si parla di superbonus, ma in questo caso della trappola superbonus. Crediti incagliati per oltre un miliardo, in crisi di liquidità, 2.000 aziende siciliane. Le prospettive, poste e banche ora ripartono dopo lo stallo, ma la strada è ancora lunga. Ferrovie, la cura del ferro vale 21 miliardi, nei piani dell'ANAS invece un'autostrada e sulla A19 più operai al lavoro nei cantieri, ma le opere, sottolinea il giornale di Sicilia, sono ancora ferme. Si parla di migranti, nuovo naufragio, altre vittime e non si fermano gli sbarchi. Ieri tanti arrivi a Lampedusa, anche tanti trasferimenti durante la giornata, ma come scrivono giustamente i colleghi del giornale di Sicilia, gli sbarchi in Sicilia, gli sbarchi soprattutto a Lampedusa non si fermano. In taglio laterale fosse ardeatine, polemica su una frase di Giorgia Meloni, guerra in Ucraina, monito degli Stati Uniti, se la Cina arma Putin sarà guerra mondiale. E poi la Deutsche Bank affossa le borse, pronto lo scudo della BCE. Verso le amministrative in Sicilia, l'accordo non si trova, centrodestra diviso su Trapani e Catania, regione, centri per l'impiego, scattano le assunzioni, ma c'è chi rinuncia. E poi la cronaca rissa in discoteca, il questore che vedete la chiude per un mese. In taglio alto spazio anche al calcio, parla Rinaudo e si parla di Palermo, i Rosanero torneranno nel grande giro, ovviamente è l'augurio di tutti noi, mentre Giusi Buscemi tra famiglia, casi e clima. E poi anche qui torna l'ora legale, stanotte lancette avanti di 60 minuti. Lasciamo il giornale di Sicilia, restiamo nell'isola con l'edizione palermitana della Quotidiano alla Repubblica che apre. Con questo preciso argomento, regione, graduatorie da rifare, saltano le 487 assunzioni pronte. Sbagliati i punteggi delle lauree, contratti in forse per i vincitori del concorso, per i centri dell'impiego. Ancora porte chiuse ai 63 ispettori del lavoro offerti da Roma, non è vero che servono alla sicurezza. Verso le elezioni amministrative, le grane del centrodestra, in bilico l'assessore Turano che a Trapani affianca il PD. E poi il processo nei confronti di Matteo Salvini, gli ammiragli di Salvini, i migranti in mare non rischiavano la vita. E ancora i consiglieri, ma che raccomandazioni, giusto dare un aiuto negli uffici giungla. Questo è il titolo, mentre vedete appunto questa foto, il consiglio comunale di Palermo riunito nella sala delle lapidi. Ancora notizie, occhio a Messina Denaro perché adesso la vita e la cattura del boss diventano una miniserie tv. Il regista scimeca precisa, boss non mito, regista che ha già detto di essere a buon punto anche nella ricerca del casting. E dunque ci sarà in questo caso un film, una miniserie che parlerà del boss Matteo Messina Denaro. Ecco invece come sarà il centro sportivo per i raduni rosa. Questo scrive la Repubblica Palermo con i lavori, vedete, ancora in corso. E poi il caso, prato sintetico in mezzo alle auto, le mamme bocciano piazza Sturzo. Lasciamo Repubblica Palermo, andiamo a vedere l'edizione nazionale sempre della quotidiana La Repubblica. Si parla di fosse ardeatine e di una nuova polemica che ha investito il presidente Meloni. Meloni descrive la storia a titola Repubblica. Andiamo a vedere perché. Il messaggio della Premier nell'anniversario della strage non parla di antifascismo. Furono massacrati solo perché italiani. Questo dice Giorgia Meloni. Le opposizioni uccisi perché partigiani, ebrei e oppositori della dittatura. Lampi dimentica la complicità degli uomini di Salò. Mentre Fratelli d'Italia vuole abrogare il reato di tortura, Ilaria Cucchi però non ci sta giù le mani dalla legge. Queste le sue parole. Da Repubblica al quotidiano Il Giornale. La sinistra spacca l'Italia. Meloni commemora l'eccidio. Malampi lo boccia lo stesso. Anche in questo caso si parla delle polemiche sulle fosse ardeatine. La Premier dice massacrati perché italiani. Ma i dem l'attaccano e replicano. No, massacrati perché antifascisti. Malumori invece di Bonaccini contro la Schlein e già pensa alla Conta. Insomma un clima già piuttosto incandescente in casa PD dopo l'elezione del nuovo segretario. La mossa di Berlusconi. Rivoluzione Forza Italia. Cambio al vertice. Barelli capogruppo alla Camera. Cattaneo vice coordinatore nazionale e sette nuovi responsabili regionali. Occhio poi a questa notizia. Mostra il David. Lo vedete. Grande capolavoro. E una prof viene cacciata. L'ultima deriva della Cancel Culture. Scrive in questo caso il giornale. E poi il caos banche spaventa l'Unione Europea. Giorgia Meloni per ora assicura tutti. Il nostro sistema è solido, dice la Premier. Arrivano in 1600 dalla Tunisia. Esplode la bomba migranti dopo l'allarme di Palazzo Chigi. Insomma quello dei migranti è una vera e propria emergenza e come vedete sempre in primissimo piano. Lasciamo il giornale. Ci spostiamo sulla Corriere della Sera che tra le altre notizie si sofferma sulle parole di Giorgia Meloni che è soddisfatta a proposito del piano per i migranti e poi ricuce lo strappo con Macron. A quanto pare c'è voglia di collaborare. Questo dice la Premier dopo le polemiche e botte risposta dei mesi scorsi. Borse a picco per le banche. Il crollo di Deutsche Bank trascina e mercati europei. Milano perde il 2,2%. Parla la Guard della BCE pronti a intervenire ma il sistema è solido. Il cancelliere Scholz nessun timore. Andiamo avanti dal Corriere della Sera al quotidiano La Stampa. Crociata della destra contro il reato di tortura. Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge ostacola alla polizia. Il no di Ilaria Cucchi che si appella al Quirinale. Il Consiglio d'Europa bacchetta l'Italia sulle carceri. Sovraffollate e violente. stop al regime del 41 bis. E poi i timori di Mattarella per quanto riguarda i presunti ritardi nella PNRR. Vedete Mattarella dalla scossa e la presidente cita De Gasperi. Il paese deve mettersi alla stanga ma 3.000 comuni non riescono a spendere. Giorgia Meloni siamo soddisfatti del Consiglio europeo ma su migranti e MES. Nessun accordo con Bruxelles. E poi la polemica per le parole di Giorgia Meloni. Il ricordo e l'oltraggio. Parliamo chiaramente delle fosse ardeatine. Per la Premier i martiri alle fosse sono italiani non antifascisti. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa odierna. Lasciamo il quotidiano La Stampa. Questo è il quotidiano Il Tempo che apre con un altro argomento altrettanto importante e discusso. Quello relativo ai balneari. Ecco il piano. Governo al lavoro. Fratelli d'Italia pronta una proposta da portare a Bruxelles per aggirare la bulk stain. Zucconi prepara il dossier all'asta solo alle spiagge concesse dal 2010 in poi. Gli operatori però non ci stanno. Tutelare tutte le imprese restano fuori 10.000 aziende. Disgelo tra Macron e Giorgia Meloni. Collaboriamo su Migranti e Tunisia. E poi la processo a Salvini. ONG smentite dai testimoni del ministro. Dichiarazioni al processo Open Arms. Il barcone non era in pericolo. Lasciamo il tempo. Questa è il titolo. Andiamo nel dettaglio. Casa e bottega. Gian Bruno, compagno di Meloni, al convegno di governo. Demita Junior, con Abodi e l'amica di Fratelli d'Italia in Rai e il ricorso di Gentile, Forza Italia vuol cambiare le regole per il trombato calabrese. Questo l'argomento in primo piano stamane sul Fatto Quotidiano. Questa invece è la prima pagina del Quotidiano la nazione. Le banche tedesche affossano le borse. Crolla il titolo di Deutsche Bank, trascina al ribasso tutto il settore. Il cancelliere Scholz rassicura ma la BCE è pronta a intervenire. Asse Meloni Macron sui migranti. Parla invece l'inviato a Parigi per il Mediterraneo che dice stabilità nel Nord Africa o sarà il caos. In taglio centrale una notizia che abbiamo visto anche prima, lezione sul David, via la prof e porno. Florida, quindi siamo negli Stati Uniti, la preside mostra la statua, ira dei genitori e viene addirittura licenziata. Dalla nazione al quotidiano libero che tra le altre cose si sofferma sul processo Open Arms, il processo a Matteo Salvini, la ONG ha mentito per incastrare Salvini. L'equipaggio scrisse che la nave imbarcava acqua e i migranti rischiamano la vita. Tutto falso, lo conferma anche l'accusa. E a proposito di migranti e non solo, patto Meloni Macron contro la Germania per salvare conti e auto. Prime grane per Elislein, calenda la boccia, meglio la destra di lei, dice calenda, nuove intese a partire dal nucleare. E poi il ribaltone di Berlusconi, Forza Italia cambia i vertici via il capogruppo e sette coordinatori. Ed ora allo sport. Anche questa mattina andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi. Partendo dalla Gazzetta dello Sport si comincia a parlare di calciomercato in vista dell'estate. La Rosia si sofferma nello specifico sulla possibile mossa in attacco da parte del Milan. Il diavolo tenta Morata. Il Milan, vedete, a caccia di un centravanti. I rossoneri devono rinforzarsi in attacco. Lo spagnolo scade con l'Atletico nel 2024. E secondo la Gazzetta sarebbe il primo obiettivo del Milan. L'Inter invece risponde con Aubameyang. Assalto al 9 in rotta con il Chelsea. Nella lista restano pure Firmino e Turam. Dunque le due milanesi pensano a rafforzare le rispettive rose soprattutto in attacco. Il Corriere dello Sport apre invece con il Napoli. Aurelio denuncia con altre regole. Il titolo l'avremmo portato a Napoli molto prima. De Laurentiis, Scho, Lo Scudetto, Spalletti, Hojimen, Kim e anche Allegri. Come al solito il vulcanico possiamo definirlo così. Aurelio De Laurentiis ne ha per tutti e non risparmia nessuno. Mentre Lukaku fa tre gol a Ibra. Rabiò invece stende Wijnaldum. Si parla di nazionali con le gare che si sono svolte ieri come Belgio, la Svezia ma anche Francia e Olanda. Lasciamo il Corriere dello Sport. Questo è il QS che apre con il Moto Mondiale. Mondiale è casa nostra, scrive il quotidiano sportivo. Se italiani al Via oggi prima pole position alle 11.45 e sprint race alle 16. Dunque in bocca al lupo ai nostri italiani che saranno, si spera, grandi protagonisti nel Moto Mondiale. Noi intanto ci fermiamo qui, chiudiamo questa edizione della Rassegna Stampa. Partiamo però con le nostre edizioni di Spazio Notizia, con tutte le news e le informazioni che riguardano prettamente la nostra Sicilia. Rimanete con noi per restare aggiornati lungo tutta la giornata. A più tardi.